e si ci tocca perché ben ritrovati perché perché abbiamo deciso per il nostro bene l'ho detto anche nel telegiornale noi stiamo registrando oggi la puntata va in onda domenica stiamo dicendo oggi sabato però vediamo che gli aumenti sono esponenziali anche oggi si parla di oltre 600 contagiati a Pordenone ce ne sono molti anche che conosco anche persone che operano nel pubblico e quindi e quindi non me la sento per sicurezza prima di tutto dei miei ospiti che comunque tutti hanno il green pass tutti sono all'entrata controllati la misurazione della febbre addirittura non tocchiamo più ma si avvicinano a un muro c'è un apparecchio che dice se può entrare non può entrare e sono tutti tracciati firmano documenti che hanno il green pass ma noi lo vogliamo anche vedere che non è tutt'altro però giunti a questo punto per nostra ma soprattutto per loro anche perché possiamo essere asintomatici anche da vaccinati guardate quando io sento parlare di tamponi bisogna farsi i tamponi perché il tampone non è che se tu questa mattina ti fai il tampone è come quella che fa l'analisi per vedere se è rimasta gravida o incinta esce no che è negativa e dice possono andare a fare l'amore senza il preservativo oggi non è così questo è il senso l'ho fatto basso basso ma capite il perché e quindi abbiamo deciso di riprendere questa usanza della mascherina allora abbiamo il nostro professor guglielmo cevolin che ringrazio per essere qui lo abbiamo avuto già in altre occasioni è un docente universitario all'università di udine è una persona esperta di geopolitica tant'è che viene chiamata in tantissimi convegni sia a livello nazionale che a livello internazionale la geopolitica è il suo pane è un ottimo avvocato tra le altre cose ed è anche il referente di limes qui in friuli venezia giulia poi le parti avvocato e poi parliamo di geopolitica io ho due notiziole due notiziole che mi hanno indispettito lo chiedo l'avvocato perché tutti parlano di diritto che parla di diritto per tirar fuori se il green pass è giusto non voglio arrivare ai greco e nantomeno ai romani però vi dico questo ma è normale in un paese che non sto con carte alla mano eh che tra sindacati organizzatori sindacati e lama l'azienda municipalizzata a roma si firmi una diciamo un accordo nero su bianco del verbale siglato ieri della municipalizzata dell'ambiente con i sindacati oltre alla richiesta di mettere un freno a ferie e permessi sindacali tra gli obiettivi c'è l'accordo anche della riduzione del tasso di assenza per malattia di almeno il 10 per cento nei mesi di dicembre gennaio attenzione allora c'è questo premio aggiuntivo firmata carta non tanta canta organizzazioni sindacali per le aziende sindacali di trasporti per ama il premio aggiuntivo verrà riconosciuto qualora nel periodo considerato dalla presenza intesa oltre alla totale pulizia di tutte le strade principali di roma della rimozione di tutti gli istituti rimasti a terra attorno ai cassonetti alla igienizzazione degli stessi e alla rimozione delle scariche abusive ai lati delle strade oppure oppure attenzione se volete volete pulire però se non riuscite a pulire tutto oppure si registri una riduzione del tasso di assenza per malattia di almeno il 10 per cento nei mesi di dicembre e gennaio rispetto alla percentuale registrata nei mesi di settembre ottobre 2021 io ho sempre pensato che le grazie o le richieste le rivolgi ai tuoi diciamo corrispettivi in alto non che per avere un bonus rimani a casa mi pare che questo vada a incidere comunque sul vivere normale avvocato professor cevolini qui c'è diciamo nell'ambito del diritto del lavoro si si firma un'intesa dove si chiede ai dipendenti di fare il loro lavoro appunto e e poi per certi versi di essere un pochino più disponibili nel venire a lavorare anche quando non si sta bene in sostanza perché cioè siccome si sa che effettivamente c'è stato un aumento delle del mettersi in malattia dei dipendenti in questo periodo e qui si vuole in maniera sindacale con l'intervento del sindacato cercare di influire su questo aspetto quindi sono secondo me un sintomo di relazioni sindacali non tanto buone perché queste cose quale dovrebbero già fare i dipendenti dall'altro lato io sono malato è un diritto è un diritto se uno non è malato è un diritto ma non se sono malato a sua casa però se mi paghi vado a lavorare cioè una cosa è assurda sì sì è un po ma il nostro paese purtroppo non non sono cose nette e chiare ma bisogna mediare attraverso le organizzazioni sindacali per ottenere due risultati a roma però lo dico e nell'ambito dei dipendenti di ama che puliscano meglio beh guardi lei va a roma come ci vado io è una situazione qualcuno ride perché ci sono i cinghiali io non ci trovo nulla da ridere perché è una situazione io non so ancora come mai non sia scoppiata un'epidemia una situazione incredibile ma c'è un'altra notizia perché queste notizie passano sotto silenzio io ho fatto anche dei post perché come italiano come occidentale pur arrivando da altro paese ma per che rispetto anche la cultura di altri paesi ma non accetto determinate situazioni rimango basito allora chiedo a un uomo di diritto ma con domande serie questa è la domanda che secondo me qualcuno deve porsi cosa succede succede come sempre c'è chi rimane zitta e chi viene invitata a denunciare una coppia di origine marocchina vive in italia lei lei è costretta secondo la sua denuncia ad indossare il velo da quando siamo arrivati in italia oltre a impormi il velo integrale quando usciva mio marito mi chiudeva in casa portando con sé le chiavi potevo uscire solo se mi sentivo male per andare in ospedale solo in un'occasione mi ha aggredito fisicamente colpendomi al volto con un schiaffo fu poche ore dopo aver partorito mia figlia appena rientrata all'ospedale pretese alle 4 e 30 del mattino che gli preparassi la colazione non lo fece e lui mi dè uno schiaffone in seguito al quale io svenni quindi violenze psicologiche per obbligare una persona a mettersi il velo bene la ragazza 39 anni giovane di origine marocchina denuncia la polizia ok il marito prima trattamenti famiglia e costrizioni tra cui quella di essere costretta ad indossare il velo islamico notizia di qualche giorno fa questa rimane sto cerco parliamo solo di covide di novax queste sono notizie novax passano i novax perché io rimango basito avvocato sa perché perché il diciamo così il gruppo che è quello prima del gip quello che prende in mano il gruppo la situazione dice testuale le evidenze a virgolettate le evidenze emersi a seguito delle attività di indagine si legge nella richiesta di archiviazione del sostituto procuratore franco bettini non consentono di ritenere configurabile o sostenibile in termini probatori reato rubricato dalle dichiarazioni rese la donna non sarebbe mai stata minacciata di morte ne avrebbe subito aggressioni fisiche tale da costringere alle cure sanitarie perché questa è l'italia no invitano la gente a denunciare però se prima non ti fai ammazzare o non ti fai aggredire bastonare allora io non intervengo io capisco così nell'ordinanza infine il magistrato scrive tra virgolette virgolettate quindi lo dice lui lo scrive non dice lui la condotta di costringerla a tenere il velo integrale rientra pur non condivisibile in ottica occidentale nel quadro culturale dei soggetti interessati no allora mi dica lei se qualcuno quando diceva che a taluni bisogna fare delle visite aveva torto perché allora a questo punto voglio vedere se arriviamo alla lapidazione uno dice rientra nella loro cultura e la facciamo io mi sono indignato avvocato direi che non è condivisibile però queste con questo tipo di ragionamento giuridico avviene nel regno unito nel regno unito si applica le coppie islamiche perché c'è già il diritto islamico però però anche qui però c'è un problema perché allora stiamo parlando delle zone del maghreb stiamo parlando nel marocco il marocco non è non stiamo parlando del del dell'afghanistan non stiamo parlando del regime dei talebani non stiamo parlando quindi per uno dei problemi è che qui da noi arrivano i più poveri più ignoranti per esempio del maghreb e allora ecco perché succedono queste cose però il nostro paese nel quale c'è una costituzione e che vede la parità tra uomo e donna non può consentire la diciamo il conculcamento se io vado in marocco devo a soggettarmi alle leggi marocchine e viceversa quando vengono loro non è che loro perché la loro cultura è questa comunque anche parlando a me è capitato di fare dell'attività di deradicalizzazione a fianco della polizia carceraria nell'ambito di un progetto finanziato dalla regione friunezza giulia e c'era anche l'imam di udine su queste cose anche l'imam di udine per esempio dice guardate che è un'interpretazione errata del del della sacra scrittura questa di che il marito picchi la donna che il marito imponga le cose così che il marito perché perché diciamo questa è l'interpretazione di persone mi dispiace dirlo ignoranti ma spesso anche povere cioè questo marito probabilmente non ha una grande cultura una persona anche magari che non ha i mezzi che chissà come vive così e poi si sfoga in un modo così con un'interpretazione delirante però il problema è la copertura che gli da il nostro ordinamento che è completa e questo è un errore grave a questo punto anch'io no dico anche nel mio mondo ci sono diciamo così i talebani i talebani lei lo sa meglio di me a gesusalemme c'è una zona di gesusalemme dove addirittura anche i cartelli i cartelli anche i cartelli che indicano i passaggi pedonali hanno l'omino con la kippo con il berretto e copre la testa perché si coprono la testa con il velo sia da una parte che dall'altra ma in israele mettono il berretto le donne no è un po un modo vezzeggiativo non il velo perché i capelli secondo sono è un organo sessuale quindi attira attira per il resto le donne che vediamo in afghanistan che sono coperte dalla testa ai piedi non perché lo scrive diciamo il corano ma perché c'è questa usanza locale un po no come dalle nostre parti come in altre parti delle regioni nel 45 le donne portavano il velo in sardegna per esempio mi è capitato è sette otto anni fa che sono che sono andato per questa in afghanistan in questo perché ma non è che sia il corano che prevede questa copertura ma comunque anche anche da noi a fonni le donne erano ancora vestite tutte di nero con il fattoletto in testa allora questo io volevo aprire così per ogni tanto con lui o apro non sapeva dell'argomento però è riuscito a farci capire io torno ripetere sulle notizie queste che mi hanno indignato europa destabilizzata questo lo dice anche chi lo dice l'ex presidente della polonia wawensa il quale dice è un premio nobel tra le altre cose mensch sta destabilizzando l'europa difatti che scelto non desiste putin fa il doppio gioco da una parte con la merkel diventa il gatto mammone dall'altra diventa invece il lupo cattivo e ultimamente l'ho anche fatto capire qualche giorno fa e anche questa mattina cosa sta accadendo partendo proprio da quelle scene terribili che vediamo al confine con la polonia con una polonia che non si arrende con una polonia che ha tirato il filo spinato non sono nemmeno se sarai elettrizzato come qualcuno ha detto se così noi andremo ad attaccare l'energia elettrica cannoni ad acqua e la siamo non a 12 o 16 o a 20 gradi come a trieste ma sono sotto i gradi in quella steppa e soprattutto hanno detto noi andremo ecco questi qua sono i cannoni ad acqua e noi soprattutto andremo a costruire un muro è una situazione questa un po particolare sì diciamo che allora un po di tempo fa vi ricordate che quasi c'è stato un diktat cioè che non si poteva parlare dei migranti usati come armi di distruzione di massa e in effetti qui invece purtroppo adesso nessuno più mette in discussione che i migranti siano usati come armi di distruzione di massa e non per l'invasione ma per la destabilizzazione che creano perché questi migranti comunque non è che vogliono andare solo in polonia vogliono andare in tutta europa e però anche qui l'europa mantiene due pesi e due misure un conto al mediterraneo un conto sono queste zone queste zone qui poi leva pure di me o lascia queste immagini insieme ricordiamoci ricordiamoci perché la bielorussia fa questo tipo di di attività lo fa per come replica alle sanzioni date dall'europa per le elezioni in bielorussia che non sarebbero completamente nel rispetto dei principi democratici perché ci sono state delle repressioni del dell'opposizione perché questi qua non possono però permettersi di fare questo siamo in europa siamo ai confini dell'europa ma non è che non può permettersi lui decide se può entrare o no allora io sono d'accordo con la polonia ecco la polonia ha chiesto insieme a però insieme anche a una quindicina di paesi dell'unione europea di poter innalzare dei muri certo tra l'altro chiedendo anche i finanziamenti all'unione europea ma i paesi che ha già detto di no però però i paesi che lo chiedono non sono sono quelli di visegrad ma sono anche la bulgheria sono anche l'austria per esempio quindi sono tutti i paesi che hanno come dire che sono la gran parte dei paesi sulla rotta balcanica diciamo la grecia cipro e così via che sono molto preoccupati da che cosa dall'afghanistan perché in afghanistan sappiamo c'è stata la fuga dell'occidente un po di soggetti e di famiglie che hanno collaborato con l'occidente sono riusciti ad arrivare in aereo sulla base di cordoni di corridoi umanitari tra virgolette adesso però non si sa che cosa potrebbe capitare però professore posso dire una cosa noi siamo stati la vent'anni vent'anni siamo andati a rompere le scatole benissimo anche per fermare chi voleva destabilizzare l'occidente con attentati ok siamo stati vent'anni abbiamo speso vite umane come italia poche o tante anche se si fosse una vittima 54 bene ho detto anche svolta tra la vittima siamo stati là ad insegnare come prendere il fucile siamo stati là siamo stati qua arrivavano i giovani qua come se fossero partiti da qui partigiani per scappare alla fine quando i talebani hanno capito che l'esercito afgano valeva una mazza perché sono furbi anche la andavano a portare noi vetto vagliamento ai talebani perché altrimenti non si capisce cosa stava accadendo che adesso la moltitudine afghani voglia uscire beh doveva pensarci prima secondo me ma le donne stanno dimostrando di avere molto ma molto più coraggio degli uomini le donne anche ma fanno manifestazioni eccetera certo per quanto riguarda l'esercito afgano le ultime notizie sono che parte dell'esercito afgano si stia legando all'isis allo stato islamico che è uno dei due soggetti perché ci sono i talebani ma c'è anche lo stato islamico che si conde si contendono un po il potere quelli che fanno provocando gli atti terroristici nelle mosse quasi ogni settimana e questi questi diciamo dello stato islamico hanno arruolato parte dell'esercito afgano sì ma dico lei che conosce poi i gangli conosce il diciamo sistema ma i servizi dove erano perché non è che da un momento all'altro i talebani siano usciti dalle fogne e senza avere un contrasto siano arrivati addirittura ad impossessarsi dei campi anche quello italiano ma quegli americani con tanto anche di apparecchiature e quant'altro e armi e armi questo purtroppo ci fa ci fa vedere che diciamo ci mette in dubbio la lungimiranza qui diciamo degli stati uniti perché diciamo come è stato fatto il ritiro come sono stati fatti gli accordi di doha cioè sono tutti elementi che non depongono a favore di un di una superpotenza come è quella degli stati uniti che sa che cosa fa addirittura ma io non sono completamente d'accordo con questa posizione ma addirittura ci sono alcuni che poi lo attribuiscono addirittura alla clinton addirittura questa cosa qui cioè che ci sia una teoria del caos cioè dovunque andiamo se va bene mettiamo a posto se non se non va bene lasciamo così che tanto peggio c'è la situazione in giro e più rimaniamo noi stati uniti a galla come finirà questa se questa situazione se con questa situazione qui è una situazione che poi passano ad altri diciamo anche qui prima è stato è stata evocata la russia no allora la russia da una copertura alla bielorussia perché così fa vedere che ancora una sfera di influenza molto ampia la bielorussia ha piacere ad avere la protezione di putin perché nel caso di problemi interni conta su un aiuto russo quindi stiamo vedendo siamo alla contrapposizione tra europa nato occidente e russia questo perché non abbiamo avuto la capacità di attrarre la russia all'interno dell'occidente come un po aveva fatto adesso berlusconi berlusconi pratica di mare con quella diplomazia dei colbacchi con quelle cose anche un po folkloristi che però però la streggendo la mano ai due ai due vertici diciamo degli stati uniti e della russia però alla fine stava realizzando ma stava realizzando che la russia altro non vuole che essere considerato occidente non vuole essere spinta verso la cina ma adesso la stiamo spingendo verso la cina in realtà e quindi e quindi ecco che la situazione nei rapporti solo però in bielorussia personali con regioni con termine ovviamente l'ucraina ovviamente l'ucraina dove dove anche in dubbio un'altra spiegazione che viene data è che questa serve a distrarre l'attenzione proprio dall'ucraina perché è in programma dicono un'invasione esatto della russia perché ci sono molte esercitazioni ecco ecco qualche notizia è arrivata questa mattina tra l'altro proprio di una possibile ulteriore invasione dell'ucraina ma nella zona del donbass immagino no sempre non che vada perché altrimenti l'ucraina se non vado errato è comunque componente dell'europa è comunque componente della nato sbaglio ma allora l'ucraina sta cercando di essere di entrare nell'unione europea però è vicino all'europa l'europa è una di quelle che difende adesso beh la dichiarazione della von der Leyen è che l'europa si spende per l'ucraina questo volevo dire ecco si spenderà per l'ucraina gli stati uniti anche gli stati uniti anche però gli stati uniti si spenderanno anche dicono che si spenderanno anche per taiwan ne parleremo dopo ma ho l'impressione che quel ritiro dall'afghanistan in realtà faccia capire come gli stati uniti siano in una fase avanzata di ritiro dal medio oriente non vogliono più fare la polizia quieta del mondo dai sì per ragioni economiche un po' perché diciamo dal punto di vista anche dell'opinione pubblica americana non vuole spendere tutti quei soldi che si spendevano per esempio in afghanistan per una realtà che poi non si è riusciti a cambiare anche loro morti sono falli però tutti questi sono una quantità di fallimenti diciamo dell'influenza degli stati uniti nel mondo dall'altro lato la sorgere sempre di più un mondo multipolare però completamente destabilizzato e quindi il futuro non è roseo perché secondo lei l'Europa da questo punto di vista non c'è già oggi una destabilizzazione strisciante se andiamo a vedere la Polonia, l'Ungheria, se andiamo a vedere tutti quei paesi che sono stati immediatamente inglobati con l'Europa ma che non hanno una visione europeistica vera e propria ma diciamo che Orban influisce nella ricerca e nella giustizia io per esempio sono cose che un po' conosco anche attraverso un amico di Limes che lavorava come ricercatore in Ungheria e poi ho dovuto scappare perché non era in linea con il regime anche se stiamo parlando di un ambito comunque democratico cioè attraverso gli istituti democratici anche Hitler fu eletto democraticamente alla rivoluzione legale c'è un libro che parla della rivoluzione legale cioè quella di Hitler che alla fine è riuscito dopo aver tentato nel 23 col Pugge di Monaco fu incarcerato dopodiché legalmente riuscì ad arrivare al potere secondo lei in Ucraina come finirà? ma in Ucraina come vede la situazione in Ucraina oggi? è una netta contrapposizione anche lì stiamo ragionando però in maniera un pochino piuttosto errata da un punto di vista giuridico si cerca di sottolineare la sovranità dell'Ucraina però dobbiamo anche essere realisti cioè le zone occupate tra virgolette dalla Russia sono zone che sono sempre state russe hanno una maggioranza di popolazione pienamente russa che parla russo che si sente russa come in Alto Adige ecco 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 quindi come dire è un ambito nel quale tra l'altro perché è accaduta questa roba qua? perché in Russia nessuno avrebbe mai nell'Unione Sovietica anzi nessuno avrebbe mai immaginato che l'Ucraina poi fosse potesse passare alla sfera di controllo tra virgolette o di alleanza dell'Europa o dell'Occidente perché all'interno della Federazione Russa poi c'era una spartizione diciamo anche amministrativa ma che era puramente amministrativa non di vere e proprie repubbliche sovrane tant'è vero che chi osava poi pensare solo di andarsene ovviamente poi veniva punito e purato eccetera eccetera quindi per sbaglio diciamo la zona del Donbass è finita nell'Ucraina ecco come ripartizione amministrativa è un po' tutto quanto no? accade e prende via no bisogna conoscere la Crimea la storia la Crimea che poi fa da volano anche ma ricordiamo che la Crimea in qualche modo fu data in una serata di Baldoria da Khrushchev da Nikita che all'ONU il tacco della sua scarpa che si levò io lo vidi non ero il mio ormai a casa ma lo vidi e in una serata di Baldoria regalò la Crimea sì ma era una ripartizione amministrativa ma appunto ma però alla fine ma anche questa crea poi quelle problematiche di situazioni particolari perché la Crimea sappiamo che è anche una base insomma navale piuttosto importante e c'erano anche i sottomarini nucleari cioè non è che ma la mia romanda poi passa adesso poi alla fine agli ultimi 17 parleremo dell'Italia perché sento che la Costituzione non c'è più che qua che Draghi ecco lo chiedo anche in questo caso a un esponente di Limes io continuerei però a parlare di Cina perché la Cina è stata chiara con tira via più ore di me anche se parlo lascia le immagini questo è Biden tra l'altro con Biden e la Cina c'è qualche momento di asprezza Biden ha fatto capire che non si recherà all'inaugurazione dei giochi invernali all'Olimpia dei giochi invernali per i diritti umani che in Cina non esistono tra l'altro l'ultima vicenda di questa tennista a livello mondiale campionessa cinese che ha dichiarato sui social di essere stata violentata dal vice ministro quant'altro cinese è sparita è sparita adesso è ricomparsa dicono ma è sui social però è sparita hanno fatto vedere anche qualche giorno fa che la CNN lingua cinese stava dando la notizia ed è automaticamente stata censurata in diretta per questa è la Cina in dove se lo nascondiamo o no? beh questo è un regime totalitario quello della Cina e quindi anche nei confronti di esponenti di società di grandi società eccetera eccetera fa presente il suo potere totalitario nel senso che ogni tanto anche qualche grande vertice di società dell'informatica praticamente non hanno la possibilità di uscire dal territorio della Cina questo è un modo per fargli capire come si devono comportare e così via e così via anche il sci che ha questa immagine serena che trasmette serenità come sci eccetera eccetera in realtà si diciamo rimane in Cina non va all'estero così anche per controllare totalmente la selezione della classe dirigente all'interno del partito comunista perché non ci sia nessuno che possa come dire mettere in discussione il suo potere mao è riuscito in qualche modo ad arrivare dopo dopo che era arrivato piano piano ha continuato insomma a gestirsi il potere quello che sta facendo lui sì infatti c'è una similitudine tra mao e sci però anche nel pieno potere e controllo che ovviamente è un po' inaccettabile per chi sta invece nell'altra sfera Biden però Biden però è strano perché per quanto riguarda invece l'ambito ambientale ha fatto anche un dialogo quattro giorni prima che si confrontesse le coppia 26 ci sono state anche c'è stato anche un dialogo quindi virtuale quindi tra superpotenze poi c'è sì la contrapposizione però c'è anche il dialogo cioè sì si parlano lei mi insegna c'è il tira e molla della diplomazia quando uno supera arrivano insomma i cosiddetti consiglieri i pass radan come li chiamiamo come li chiamano gli scerpa gli scerpa della diplomazia come li chiamiamo qui in Europa per quanto riguarda la diplomazia che vanno a dire senti forse hai usato un termine e così si 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 cerca di recuperare in Cina lo diranno in modo diverso questo questo anche ci insegna un po' noi europei a volte di non essere più realisti del re cioè nel momento in cui la contrapposizione con la Cina che c'è però ci sono anche come dire delle opportunità guardiamo come si comporta la Germania la Germania ha un rapporto con l'energia per l'energia con la Russia e con Nord Stream eccetera eccetera anche se questo è stato bloccato qualche giorno fa ha dei buoni rapporti comunque con la Russia ha parlato di questo problema di Minsk proprio direttamente con Putin direttamente però anche Putin come dire però anche lì è sempre una cosa bionivoca perché il gas e le pipeline sono bionivoche è vero che io ti do il gas però è anche vero che tu me lo compri quindi sono dei rapporti che ma Luca Schengel quando ha detto io ti chiudo il rubinetto è intervenuto Putin infatti le ha detto un momento un momento Putin glielo chiude anche a Lukashenko appunto il gas dopo e questo è un gioco qualcuno a me piace leggere l'IMES è un gioco di scatti ecco l'IMES ci serve a farci ragionare perché l'IMES mette in evidenza come le grandi potenze tra virgolette si fanno anche dei favori tra di loro e quindi anche noi dobbiamo pensare un pochino al nostro al nostro interesse come europei e come italiani anche e a volte non siamo in grado di farlo perché come Unione Europea non abbiamo una politica estera e come Italia spesso non abbiamo mai non ragioniamo come ragionano gli altri paesi pensiamo solo alla Francia con il concetto di interesse nazionale guardi e quello che è successo tra l'altro oggi tutti parlano di Libia in Libia ci sono oltre 13 tribù e lo dico a ragion veduta e dispiace dirlo se c'era uno che teneva in gabbia il tutto era Gheddafi il quale usava bastone e carota ma tutto sommato andavano avanti nel momento in cui la Francia è partita con i suoi aerei assieme all'Inghilterra che hanno preso per i capelli l'Italia perché Berlusconi non voleva oggi siamo in una situazione tremenda siamo in una situazione tremenda non so come andranno a finire neanche queste elezioni con l'interno Russia e Turchia allora intanto con l'interno Russia Turchia e Francia e quella è assodata e i candidati sono Haftar e il figlio di Gheddafi e noi che eravamo i primi accreditati siamo noi che eravamo i primi accreditati con Berlusconi tra l'altro anche da parte degli Stati Uniti dal punto di vista della comunità internazionale e così via non tocchiamo palla ecco su queste cose sarà interessante un po' che lo avremo nel Master in Intelligence dell'Università di Udine dove io sono vice direttore un po' parlare anche con Marco Minniti che già ministro si è adesso presidente di una fondazione di Leonardo che si occupa soprattutto di Mediterraneo e quindi può sapere la sua opinione perché lui ha incontrato come ministro degli interni proprio tutte queste tribù venivano una a una a parlare con il ministro degli interni per per vedere se il nostro paese riusciva ad avere un ruolo in quel ma Minniti aveva già anche trovato una soluzione a Minniti è è l'ultimo arrivato a Minniti infatti l'hanno messo da parte purtroppo il nostro paese c'è le persone che hanno che sanno lavorare una grande che sono dei veri e propri statisti perché al di là che è di una parte politica però sono dei soggetti che poi riescono a essere istituzionali adesso andiamo se mi permette professore andiamo un attimo in BK che è il break pubblicitario comunemente chiamato tecnicamente BK e poi rientriamo per gli ultimi 17 minuti assieme con il professor Guglielmo Cevolini Guglielmo Cevolini